1, 2, 3 è finito già i compiti? c'è una statua lassù sicuro? 2 c'è un altro per di là c'è un altro per di là però prima fammi vedere un po' qui sopra ah eccolo dove è l'altro aspetta fermo prima c'è questo qui eccolo che fedecchia? c'è colpisco il cane che sta in movimento faccio tutto quello prego immagine sulla parete e qua? i rati hanno infestato un'area del castello e ora stanno rosicchiando tutti i libri preziosi ma quegli eretici non frega nulla vi prego che qualcuno sia comune di quelle carogne prima corridoio centrale biblioteca tre spinelli vabbè aspetta una cosa per volta andiamo a fare i medaglioni non mettiamo troppa carne sul fuoco non mettiamo troppa carne sul fuoco ora qui di sicuro ce n'è uno c'era pure un'altra porta di là andiamo a vedere bella andiamo a vedere pure di là ma che cosa c'è? e c'è un altro anche qui ok sono un poco sparsi perfetto allora non so perché non la metti tu? perché non la metti tu? piccola chiave due piccole chiavi non la metti tu? stacchi che hai Ashley? che hai mu? eh non puoi restare qua che ti devo dire? ah allontanati ok con me ok la faccio uscire pazza oh boh 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 eh non sprechiamo nulla vai eh un attimo Andrea Andrea no qua c'ho preso allora andiamo a distruggere l'altro medaglione andiamo ho preso pure c'era un tesoro uh uh fì 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 dove è sto tesoro? no guarda dov'era ah un altro oggetto uno vaffan bagno vabbè andiamo oh no no dall'altra all'altra stata andiamo 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 dai dai che dobbiamo uccidere pure i rattoni rattoni rattino ti spacco il l'orecchino no pausa no c'è di nuovo il caprone cornuto fa bagno no non caricare ora che diavolo succede? datemi tre qua amico mio eh c'è la pistola potente ora oh e tu da dove sei uscito? guarda questo che mi stava nelle mutande? oh no no attenzione alla luce aspetta spliffi che diavolo succede? gloria l'asplora ho un regalo buonissimo oh la coltelliamo? oh se mannaggia oh oh e dietro asli a bo vat aaa però se stupida E vai Bella miseria Va finito Oh Ok Bella miseria Yeah Oh Ok Ah Punizioni per fuzile Oh Via No C'è quest'altro qua La pianticella qui La pianticella Oh Kuro Sono passato un saluto rapido rapido Tutto bene Tutto bene Kuro A te tutto a posto? A posto Allora Andiamo qua C'è una gemma Ah Balcone di sopra Vieni 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 Continuo a farmare Sui miei giochi Bravo 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 Ah no Non c'ho spazio Questa è munizione carabina Affan bagno Aspettando Ghostwire Tokyo giorno 12 Ah è l'espansione L'update 12 aprile vero Ma devo ricordare Io ora ci ho dovuto ricordare 12 aprile 12 aprile ci ho dovuto ricordare Bravo Kuro Così vediamo quest'update Che cosa porta Allora di qua Andiamo a prendere Il tesoretto Abbiamo pure un caprone Che è sto caprone La testa di capra L'ho presa la testa della capra Non è un update Un gioco a parte Un gioco a parte No io l'ho giocato Che l'ho preso su Steam Sapevo che c'era un update Per Ghostwire Tokyo Io sto aspettando Che esce su Pasco Se lo gioco Sì ma Qualcosa con i ragni Hanno aggiunto Qualche nuova missione Con i ragni Forse O un nuovo nemico Ci sono anche i ragni Quindi forse Dobbiamo ricombattere tutto Non lo so Oh no Ho sbagliato Strada Eh figurati Io ho capito Che è un update Eh Io ho capito Che è un update C'è scritto update Trailer Update C'è una porta qua Giusto giusto Quando esce Eh Hai capito Guarda Non lo so Penso di sì Penso di sì Curo Che puoi giocarlo pure tu Non solo perché Hai acquistato il gioco Io il gioco L'avevo proprio acquistato Ti posso dire Che a me è piaciuto tantissimo Anzi è stato Molto molto sottovalutato Qua in Italia Una sala da pranzo Eh E che come Mangiare qui No grazie C'è qualche altro tesoro C'è una piantina Dove Ah eccola Per me è meglio Ti assegnano spesso Missioni come questa Sì vabbè La storia non è che Era un gran chiede Atomic Earth Un bel gioco però Ma di solito Non ho una compagnia Così piacevole È un complimento Prendilo come vuoi La testa del serpente Come la prendiamo? Come la prendiamo La testa del serpente Perché non posso Prendere la testa del serpente Perché non la posso Prendere C'è qualche leva Qualche cosa Che non abbiamo visto C'è qualche Bocchetto Ma la storia mi ha detto Bene Che posso fare per te Abbiamo la fede Di non rimanerci secco No Vaffanbagno Ma Vediamo una cosa Ah Sbagliato Ah solo là La posso mettere Niente Allora Andiamo Ah ma io Ho il coltello rotto Ecco perché Non mi faceva Coltellare Aspetta Aspetta Fermo Eh Ma noi Sto ti periferà Non dimenticarti Di affare La prossima volta Compra qualcosa Ma già Ecco perché Già vale qualcosa Di più Andiamo a fare Qualche altra Missioncino Ma c'è C'è un Ricorda che sparare Fa rima Con giocare Straniero Ah sta qua Il tesoro Che questo Non so come Si prende La piccola chiave Non funziona Salve straniero Andiamo Allora Noi siamo Già stati Di là Siamo stati Ok Dove stavano I topassari Scusami I topassari Dove erano Non ricordo più Là ci siamo Stati Oh abbiamo Lasciato Delle munizioni Di fucile Per di là Oh 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 Aspetta Andiamoci a prendere Un attimo Le munizioni Per il fucile Ecco Ho detto una cosa E ne ho fatto Un'altra Vabbè Stiamo a prendere La testa di Leone Devo male Guarda Guarda E voilà In summa Ai No Ok Bravas Riva No come non ce lo Aspetta Vif Vai al diavolo Stronzo Arruginito Oh Affanbagno Si Buonanotte Cavalieri Ashley Vai Vai Adesso ci ha preso L'abitudine A lanciarsi E farsi prendere Sicuro di star bene Ti sei bruciato Grazie dell'aiuto Sei stata brava Basta Grazie Di Grazie a tutti